Il pericolo di incontro Il pericolo di incontro nell'aria in tutto il mondo è forte. La situazione è grave. La plastica è uno dei più gravi problemi di inquinamento. Chi distrugge il proprio suolo, il mare e l'aria distrugge se stesso. Raccogli, butta e organizza. La natura ci ha donato e ci sta donando posti meravigliosi. Le foreste sono i polmoni della nostra terra, purificano l'aria e danno forza alla gente. Avere la terra e non rovinarla è la più bella forma d'arte che si possa desiderare. La natura non è un posto da rovinare, è la nostra casa.